Jessica Maria Lavista ha presentato il cartellone degli eventi 2024-25 a Forio. Quali sono gli elementi salienti? Allora, l'anno scorso abbiamo posato la prima pietra per dare avvio a un brand per lanciare il periodo natalizio, quindi il periodo invernale per incentivare l'afflusso turistico, partendo con una propaganda pubblicitaria che verte su grandi spettacoli. Quest'anno la maggior parte degli eventi saranno in forma itinerante, con la partecipazione attiva dei cittadini, dei turisti, dei commercianti, insomma di un po' di tutti per entrare in un mondo fatato, per cui la nostra intenzione è farvi immergere nel mondo delle favole, dove si ritornerà a sognare di nuovo come bambini e cercare di dare un ricordo che rimarrà indelebile per il futuro. Quindi far conoscere il nostro territorio attraverso gli eventi formati dalle associazioni locali, cercare di valorizzare i nostri vicoli saraceni, insomma tutte le nostre caratteristiche, le nostre tradizioni, tutte le varie forme di presepi che insomma metteremo in esposizione. E' veramente il forio delle meraviglie, per cui forio Maryland, speriamo in bene e sicuramente con l'aiuto di tutti ci riusciremo. Quindi grande switch on per il 7 dicembre con sorpresa finale. Esattamente, un grande switch on in tema completamente diverso rispetto al calendario dell'anno scorso, perché è nostra intenzione ogni anno rinnovare, in modo da attirare sempre più l'attenzione. Quest'anno punteremo sul tema delle favole, in particolare Alice nel Paese delle Meraviglie, per cui ci saranno tantissime novità. Grazie.